Però c'è la crisi, io credo, in una distribuzione di un prodotto medio. Purtroppo la società civile sembra più dividendo sempre più chi è costretto ad andare a comprare il prodotto a costi sempre più contenuti e chi invece si vuole, si permette di acquistare il prodotto costruendo da sé. La nostra struttura non è in grado di proporre la diminuzione, non voglio che la mia struttura rinfora la diminuzione al prezzo, ma voglio che la mia struttura, la mia azienda, sia in grado di soddisfare le necessità anche dei singoli soggetti per fare un prodotto soltanto. Quindi l'installazione anche interna della nostra azienda di un sistema di organizzazione ben precisa perché non possiamo permetterci, se mettiamo in produzione un unico prezzo, non possiamo permetterci di sbagliare con un unico prezzo. Grazie. 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 Grazie.